Novelli ha tenuto a rapporto i suoi per qualche minuto, prima di dare il via alla rifinitura del sabato mattina. Poi la parte atletica, nella quale ha lavorato anche Meduri, che ha svolto una settimana di allenamenti a mezzo servizio. La decisione ultima sul suo impiego toccherà a Novelli di concerto anche con lo staff medico Rosso Blu. Ricordiamo che il centrocampista calabrese sta lottando contro i postumi di uno stiramento. La società Rosso Blu ancora non ha provveduto a tesserare l'esterno d'attacco Gulin. Ad ogni modo risulta che la valutazione sul giocatore sia stata positiva. Possibile che la sottoscrizione dell'accordo avvenga entro domani e che l'attaccante ex Catania possa giocare. In porta andrà Palumbo. In difesa si annunciano modifiche con il possibile impiego dal primo minuto di Chimpala. D'Angelo è disposito al centro e probabilmente Frezzi a destra. A centrocampo l'ago della bilancia Meduri con Voltasio e Grazioso a completare il reparto mediano. Se Meduri non dovesse farcela spazio a Tini dal primo minuto. In attacco pure è lecito attendersi degli avvicendamenti sulle fasce. Lo stesso Sudant sembrerebbe sul punto di accomodarsi in panchina. In tal caso verrebbe allertato Mulatero per una maglia dal primo minuto. In prota agirà dall'altra parte con Fioretti riferimento centrale. Campo basso Alfonsine sarà diretta dalle 15 dal signor Panozzo di Castelfranco Veneto. Tra le questioni legate allo stadio c'è anche una che è stata sollevata nelle ultime settimane e riguarda la chiusura del bar dello stadio. Attività in essere praticamente da 31 anni, cioè dall'inaugurazione di Selva Piana, e gestito dalla famiglia Palange. Da fonti del comune di Campobasso abbiamo appreso che il bar è stato chiuso perché dichiarato inagibile. Dunque bisognerà provvedere alla messa in sicurezza anche del bar. L'operazione è possibile con il finanziamento degli 800 mila euro destinati al potenziamento e alla manutenzione di Selva Piana. Da qualche anno è l'ente comune di Campobasso a dare in gestione il bar alla famiglia Palange, secondo un contratto stabilito dal commissario prefettizio consistente in una gestione di sei anni rinnovabile per altri sei. Tra le condizioni indispensabili per la concessione c'è la messa in sicurezza del locale bar. Ad oggi la situazione può apparire ai limiti del paradosso, proprio perché la gestione dello stesso è funzionata dall'apertura di Selva Piana fino alla scorsa stagione agonistica. Lo scorso 4 ottobre si è tenuto l'incontro pubblico per l'apertura delle buste contenenti le proposte delle ditte interessate alla giudicazione dei lavori di Selva Piana. Pare siano arrivate proposte da più di 100 ditte interessate. Dunque dovrà trascorrere un tempo tecnico di altri 30 giorni circa per la valutazione della migliore proposta da prendere in considerazione.